buongiorno allora diciamo che ci sono due modi di essere spazientiti tre uno con il caldo vabbè però ce lo dobbiamo trascinare fino alla fine dell'estate e poi meno male insomma dicevo uno da società a giocatore l'altro che poi non è propriamente un modo di essere spazientiti poi vi spiego perché tra società e società partiamo dal primo la juventus si sta spazientendo diciamo nei confronti di sulle perché allora l'offerta la roma arrivata 29 milioni compresi bonus la juve vuole viaggiare dai 30 in su o con bonus o con percentuale più bonus più o percentuale di futura rivendita quindi siamo come dire vicini all'offerta della roma ma non è ancora l'offerta che vuole la juve c'è una società che potrebbe spingersi oltre i 30 quindi attaccandoci il bonus o la percentuale di futura rivendita e sarebbe il west ham nei confronti di sulle sulle però vuole la roma allora la juve ha tutto l'interesse economico a mandare il giocatore in inghilterra in premier ricotterebbe di più sulle invece vuole non dovendo restare a torino non potendo restare a torino che era comunque la sua prima scelta vuole andare alla roma la juventus si sta un po diciamo innervosendo con il ragazzo questo che arriva ossia vuole chiudere la questione molto alla svelta non vuole protrarla o tirarla per le lunghe quindi o la roma va oltre e da roma arrivano indiscrezioni di una possibilità o comunque di una considerazione della possibilità di andare oltre ma nel breve oppure se il giocatore rifiuta il west ham potrebbe anche paradossalmente restare in bianco nero col giocatore che resta in bianco nero e so che farebbe la felicità di molti di voi e anch'io sarei contento di vedere sulle con la maglia della juve la juve però non può non può aprire altre trattative praticamente non dico che dovrebbe mollare la trattativa più importante ma quasi che poi è quella che porta a te un coob miners anche in questo caso però c'è una sensazione di perdita di pazienza più che perdita di pazienza di necessità di accelerare per casi lo avete sentito aveva detto non è in programma la cessione di coob miners non è talmente in programma che coob miners è d'accordo per uno stipendio quinquennale di 4 milioni mentre l'atalanta 32 milioni e mezzo quindi per coob miners l'affare si può fare in qualunque momento ma decide l'atalanta che non si schioda e non fa sconti nonostante i tentativi della juve rispetto ai 60 milioni richiesti inizialmente cifra che la juve potrebbe eventualmente iniziare a conteggiare vendendo appunto sulle vendendo chiesa vendendo usen usen come abbiamo scritto anche sul nostro sito di sport mediaset sarebbe negli interessi del marsiglia di deserti non so quanto possa essere attirato dalla prospettiva di andare a giocare in legante è vero che avrebbe un tecnico comunque italiano anche se non è italiano ovviamente ma comunque è un tecnico conosciuto molto ambizioso se la richiesto del zerbi significa che la sua intenzione è quella di farlo giocare e quindi potrebbe diventare titolare la valutazione 20 milioni minimo fatta dalla juve su cove miners perché ho parlato di pazienza o comunque necessità di fare alla svelta perché c'è un precedente e riguarda l'interessamento che giuntoli ebbe nei confronti del giocatore l'altro anno quando è venuto del real napoli ci si provò da parte del napoli prima del club miners ma l'offerta arrivò tardi dopo la metà di agosto l'atalanta gradirebbe che la juve si scoprisse apertamente prima della metà non dimenticate che l'atalanta ha il 14 di agosto la supercoppa europea contro il real madrid e naturalmente la necessità che è un po quella di tutte le squadre salvo eccezioni che fioccheranno per tutte le squadre sarebbe quella di chiudere il mercato prima dell'inizio della stagione ufficiale che per l'atalanta comincia il 14 di agosto a differenza delle altre squadre comincia dal 17 in avanti quindi o la juve si fa sotto però ragazzi non è così semplice da dire la juve si fa sotto se hai i soldi se non hai i soldi non può farsi sotto ecco perché il lavoro di giuntoli in questo momento qua è molto pressante è molto pesante c'è sicuramente una grossa parte di operazioni da concludere e possibilmente nel breve perché se è vero che gasperini vuole l'atalanta praticamente al completo altrettanto piago motta vorrebbe una juve praticamente al completo a ridosso dell'inizio della stagione quindi vedete che c'è una sorta di intrigo che combatte necessariamente contro il tempo e l'atalanta ragazzi quando decide no o comunque fissa un limite è difficile che cambi idea quindi se si arriva a ridosso di ferragosto senza che Kurt Miners sia stato acquistato dalla juventus credo che sia molto difficile vedere l'olandese con la maglia bianconera con la nuova maglia bianconera in attesa di sponsor nella prossima stagione è una corsa contro il tempo ma che richiede ovviamente anche oculatezza perché non è che ti puoi far prendere ora giunto lì è sicuramente bravissimo il suo mestiere quindi la juve confida su un grande professionista però sono i momenti in cui devi dare un occhio al tempo ma non farlo diventare precipitazione perché la precipitazione ti fa fare dei cattivi affari per cui tu devi prendere il più possibile guadagnare il più possibile da altre operazioni che a loro volta hanno necessità di riunioni, incontri, proposte, offerte eccetera proposte e offerte che non riguardano, almeno come termini, Federico Chiesa l'unica offerta che gli era arrivata o meglio proposta era stata quella di rinnovo della juve ad uno stipendio più basso rispetto ai 5 milioni e mezzo sul tavolo di Giuntoli, ad oggi, mentre vi sto parlando non è arrivata nessuna offerta concreta per Federico Chiesa né da parte della Roma a suo tempo né da parte del Napoli per restare in Italia né da parte di squadre straniere e cito ancora una volta il Bayer di Monaco che aveva fatto un sondaggio nemmeno da parte del Manchester United ad ora che sarebbe una delle squadre gradite e secondo me la più consona per far esprimere Federico Chiesa quindi, tutto ciò che sembra fantacalcio e che noi abbiamo considerato come una piccola percentuale perché come lo sapete io considero tutto anche un 1% di possibilità ad oggi è ancora lì è ancora lì ossia la clamorosa possibilità che Chiesa non trovi una squadra d'estate e si possa provare per lui a gennaio è la stessa cosa che potrebbe accadere per Sule che resta la Juve e si tenta di nuovo a gennaio la domanda il domandone in questo caso quale sarebbe? come verrebbero considerati due giocatori che dovevano partire in estate e sono rimasti lì perlomeno fino a gennaio come dovrebbero essere considerati da una società da un allenatore con questo interrogativo vi lascio e vi do appuntamento a questa sera